Buonasera e bentrovati alla terza edizione del TG6. Danimarca e Polonia dalla prossima primavera saranno direttamente raggiungibili dall'aeroporto di Pescara. Il primo effetto dell'accordo sul taglio dell'aumento dei biglietti aerei che ha fatto sì che Ryanair non lasciasse la base di Pescara. Sentiamo il servizio. Copenaghen e Cracovia sono queste le destinazioni europee di Ryanair che vanno ad aggiungersi alle attuali sette rotte garantite dal vettore low cost irlandese da e per l'aeroporto d'Abruzzo. Il prossimo anno a partire da aprile e per tutta la stagione estiva la capitale della Danimarca e la principale meta turistica della Polonia meridionale saranno direttamente raggiungibili da Pescara, facendo seguito così al piano di espansione che Ryanair ha annunciato dopo il ritiro da parte del governo italiano della sovrattassa di 2,50 euro sui biglietti. Cracovia rientrava nell'elenco delle sette destinazioni indicate da Ryanair subito dopo l'accordo con governo e regione. Copenaghen invece è stata aggiunta attraverso incroci tra slot, orari e calendario. Adesso restano in piedi altre sei rotte, Dublino, East Midlands, Valencia, Marsiglia, Virnus e Varsavia, per le quali Ryanair aspetta una risposta dalla regione Abruzzo, collegamenti che rientrano nel piano di investimenti da un miliardo di dollari annunciato dal vettore irlandese in occasione della presentazione del piano nazionale sui trasporti alla presenza del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Del Rio. In totale 44 nove rotte, 21 su Roma e Milano e 23 sugli aeroporti regionali, con notevoli ricadute su turismo ed occupazione. L'amministratore delegato della Ryanair, Michael O'Leary, prevede una crescita di 3 milioni di passeggeri trasportati, contando di raggiungere quota 35 milioni nel 2017 con un più 10%. Se così fosse, sempre secondo O'Leary, verrebbero creati 2250 nuovi posti di lavoro presso gli scali italiani. Il premier Matteo Renzi ha espresso la sua soddisfazione per l'obiettivo raggiunto con la compagnia irlandese in un tweet Cosa insegna la storia di Ryanair non solo in Abruzzo e in Sardegna? Giù le tasse. La società regionale di gestione dell'aeroporto Saga, in una nota, ha fatto sapere come nel corso della conferenza stampa il ministro Del Rio abbia voluto ricordare l'importante contributo del sistema Abruzzo alla trattativa e il ruolo del presidente D'Alfonso quale elemento trainante dell'intero processo di confronto e di individuazione delle soluzioni nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Proprio la Saga nei mesi scorsi era finita al centro delle polemiche sollevate dall'Associazione Pescara Mi Piace che aveva criticato la gestione dell'aeroporto dopo il paventato addio ora rientrato della Ryanair. Resta però il giudizio critico rispetto alla gestione che Saga fa dell'aeroporto sempre da parte dell'Associazione. Sentiamo questa intervista da Armando Foschi. Noi siamo stati i primi a segnalare le problematiche di Ryanair che voleva abbandonare lo scalo aeroporto di Pescara. Non siamo contrari al movimento aereo nello scalo pescarese, siamo contrari alla gestione dello scalo, così come avviene. Una pioggia di milioni di euro in due anni, 15 milioni di euro catapultati dentro le casse della Saga quando il pronto soccorso di Pescara soffre, gli ospedali minori vengono chiusi e si mette a rischio la salute dei cittadini abruzzesi. Ieri abbiamo preso che Ryanair resta a Pescara, quindi questo ci fa piacere perché sicuramente l'aeroporto di Pescara diventerà una cattedrale del deserto, però siamo attenti a vedere quali finanziamenti pioveranno nelle casse di Ryanair. Devono essere finanziamenti illegali. Da un punto di vista finanziario economico turistico è questa una buona notizia per tutto l'Abruzzo? Certo, nessuno lo nega, mica siamo contrari, anzi se l'aeroporto di Pescara riesce a raggiungere 700.000-800.000 passeggeri è sicuramente un buon indotto. Poi dobbiamo vedere di questi 800.000 passeggeri quanti spenderanno euro in Abruzzo. Ed ora una notizia di cronaca, è morto a pochi metri dalla riva dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno nel mare di Punta Penna a Vasto per Don Luigi Ceccolin, 79 anni per tutti, padre romano, monaco del convento Benedettino presso la Basilica del Santuario Santa Maria dei Miracoli di Casalbordino. Non c'è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimazione di alcuni passanti che lo avevano tirato a riva e dei sanitari del 118 intervenuti con il defibrillatore e con l'eliambulanza. Se il padre abbate il 20 settembre del 2015 in comunità aveva festeggiato 60 anni di vita religiosa e il 2 gennaio scorso aveva aperto la porta santa della Basilica nell'anno giubilare della misericordia. Il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, si è detto addolorato e costernato per la morte di padre romano che è stato un punto di riferimento per tutta la città di Casalbordino. Andiamo avanti. Salvatore Parolisi potrebbe lasciare il carcere militare di Santa Maria Capua Vetere. in Campania il prossimo 28 settembre i giudici discuteranno la richiesta del sostituto Costagliola rispetto alla degradazione del militare. Andrea Costantini. Salvatore Parolisi potrebbe lasciare il carcere militare. A distanza di due mesi dalla sentenza definitiva della Cassazione che, rigettando il ricorso dei legali del caporal maggiore, ne ha confermato la condanna a 20 anni di reclusione per l'omicidio della moglie Melania Rea, si torna a parlare di uno dei casi più discussi degli ultimi anni. La prossima pagina che potrebbe essere scritta su questa vicenda è legata alla richiesta del sostituto procuratore generale di Perugia, Giancarlo Costagliola, di applicare nei confronti di Parolisi la pena accessoria della degradazione del militare dall'esercito. Tra le conseguenze principali ci sarebbe l'uscita dal carcere militare di Santa Maria Capua Vetere, dove il caporal maggiore è attualmente rinchiuso dopo un periodo trascorso nella casa circondariale di Castrogno. Se ne riparerà il prossimo 28 settembre. Accanto alla parte più fredda e tecnica della richiesta di un magistrato c'è poi il fronte più umano, come la lettera che nei giorni scorsi il papà di Melania, Gennaro Rea, ha scritto al ministro della difesa Roberta Pinotti, lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano. Un militare condannato per omicidio in via definitiva scrive non crediamo possa ancora mantenere lo status di militare e il reato commesso non ha nulla a che vedere con i reati militari. Vi prego di provvedere al più presto a far scontare la misera pena di Parolisi al confronto dell'ergastolo del mio dolore presso un normale carcere con i delinquenti e gli assassini comuni. Una vicenda lunga che ha visto il caporal maggiore condannato dall'ergastolo del primo grado con il rito abbreviato fino alla sentenza definitiva della Cassazione a 20 anni di reclusione dopo l'eliminazione dell'aggravante della crudeltà. Ma se da una parte si dovrà discutere tra più di un mese sulla pena accessoria della degradazione dall'altro i legali di Parolisi, biscotti gentile e ben guardato sono al lavoro per preparare un ricorso alla Corte Europea di Strasburgo per stabilire se il loro assistito abbia subito o no un giusto processo. In tema di carceri il deputato di SEL Gianni Melilla ha fatto visita al carcere pescarese di San Donato ha parlato di una struttura ormai vecchia e di carenza di personale. Buono invece, secondo Melilla, il programma di lavoro destinato ai detenuti. Sentiamo l'intervista di Francesca Romana Testi. Un'attività periodica, quella svolta all'interno delle carceri per vedere quella che è la situazione da un lato dei detenuti e dall'altra anche proprio delle strutture. si parla in alcuni casi di sovraffollamento, in altri invece di strutture che ormai sono fatiscenti. Ieri l'ultima visita è stata quella al carcere di Pescara di San Donato. Fortunatamente a Pescara non c'è sovraffollamento. Il carcere può avere 270 detenuti e ne ha 271. quindi siamo nella perfetta norma. Non è così in Abruzzo, dove vi sono carceri come quello di Sulmona che ha 150 detenuti in più, ne ha 450, ne dovrebbe avere 300. Ho anche il carcere di Teramo. E quando c'è sovraffollamento, la promiscuità genera sempre problemi non solo di qualità della vita, ma anche di garanzie e delle condizioni di sicurezza da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Qui a Pescara c'è questo aspetto critico che mancano circa 20 agenti di Polizia ma anche il personale amministrativo, per la verità. Questo comporta naturalmente dei turni di lavoro particolarmente pesanti e stressanti per il personale perché noi non dobbiamo mai dimenticare che nel carcere ci sono i detenuti ma ci sono anche i lavoratori senza colpa che lavorano lì e devono garantire la sicurezza dei cittadini e la custodia di queste persone che naturalmente devono essere rieducate mentre scontano la loro giusta pena. E ora ci occupiamo di sicurezza nel periodo di Ferragosto. Questo è importante lavoro delle forze dell'ordine che hanno implementato i servizi di vigilanza nel periodo di vacanze nelle località del mare ma anche nell'entroterra della provincia di Teramo al fine di garantire la sicurezza ai residenti e soprattutto ai turisti. Servizi di vigilanza rafforzati in tutta la provincia di Teramo in occasione delle festività di Ferragosto in concomitanza con il massiccio afflusso di turisti nelle località balneari della costa tanto quanto nei centri dell'entroterra montano. Su indicazione del prefetto di Teramo sono stati posti in atto servizi interforze ad opera della questura con il contributo delle specialità Polstrada, Polfer e Volo e del reparto prevenzione crimine della polizia e dai carabinieri con personale in divisa e in borghese anche in orari serali e notturni al fine di garantire sicurezza ai residenti e turisti scorrevolezza del traffico e al fine di prevenire incidenti stradali soprattutto quelli conseguenza di guida sotto effetto di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata posta poi alla prevenzione di furti in abitazione rapine in esercizi pubblici commercio ambulante abusivo vendita di merce contraffatta e contrasto della prostituzione. Dalle 13 al 17 agosto in generale sono state 10 le persone denunciate ed una arrestata un trentenne terramano per spaccio di sostanze stupefacenti colto in flagrante a Martinsicuro un trentunenne segnalato per possesso di stupefacente per uso personale 13 le patenti e carte di circolazione ritirate con un totale di 2267 persone identificate e 1910 automezzi controllati 3 i veicoli sequestrati nella notte tra il 16 e il 17 agosto il personale della squadra volante ha sventato un tentativo di rapina presso un distributore di carburanti in un'area di servizio della Terramo Mare 4 persone travisate hanno cercato di forzare la porta del magazzino deposito ma alla vista degli agenti sono scappati nelle campagne limitrofe facendo perdere le loro tracce rilevante il contributo anche delle unità della Guardia di Finanza del Corpo Forestale dello Stato dell'Ufficio Circondariale Marittimo della Polizia Provinciale e delle Polizie Municipali dei centri più popolosi della provincia nell'ambito delle specifiche attività di competenza Un ferragosto tutto ok per quanto riguarda le presenze al mare e nei locali di Pescara soddisfazione degli operatori che ovviamente guardano già al futuro il servizio di Paolo Renzetti Padovano pienone sulle spiagge pienone nei locali a ferragosto a Pescara la giornata del 15 è andata forse anche al di là delle più rose aspettative Siete soddisfatti? Soddisfatissimi ma io non mi limiterei solo a Pescara diciamo a pure Francavilla-Montesilvano questo 22 km di costa che hanno avuto un notevole incremento di bagnanti lo dobbiamo anche al clima al bel tempo e anche le notizie che poi sono apparse le notizie soddisfacenti per quanto riguarda il nostro mare purtroppo abbiamo pagato per una stagione 2016 un'annata un po' dal tempo un po' dalle notizie che hanno portato i bagnanti lontani dalla nostra realtà turistica noi crediamo che questa settimana ci dia il giusto momento di riflessione per programmare già per la stagione 2017 che cosa fare? Intanto dobbiamo muoverci con la regione Abruzzo la regione Abruzzo debba investire di più su questo tratto di costa che possa promuovere di più l'immagine del tratto Pescara-Frangavilla-Montesilvano noi abbiamo fatto diverse iniziative per fare in modo che a Pescara in questo comprensorio dico sempre Pescara ma mi riferisco anche agli altri due comuni limitrofi di portare gente attraverso anche una scontistica abbiamo fatto quella con i treni che prendeva il biglietto del treno del 50% poi abbiamo fatto una proposta un po' diciamo promozionale per chi ha i stabilimenti bagnari che ha quegli ombrelloni che non sono stati venduti per l'intera stagione liberi di dare l'opportunità a chi viene dall'interno non residente Pescara-Frangavilla-Montesilvano di dare l'opportunità di prendere l'ombrellone gratis o la Palma Grazia questa iniziativa potrebbe essere un lancio per la promozione di fine estate diamo questa opportunità a chi vuole venire al mare in diversi liti hanno dato l'ok di dare l'opportunità di venire e prendere l'ombrellone e non pagare Ed ora ci occupiamo di sanità prosegue la polemica politica per quanto riguarda quanto accaduto all'interno e accade all'interno del pronto soccorso di Pescara botta e risposta fra centrodestra e centrosinistra Ospedale di Pescara sovraffollamento al pronto soccorso di Pietrantonio il PD dice che a metà settembre partiranno i lavori Sì, ieri ho avuto un incontro con la dirigenza dell'Asile di Pescara e mi è stata confermata questa notizia che credo sia molto importante a metà settembre partiranno i lavori finalmente per il nuovo pronto soccorso che sarà molto più ampio e molto più adeguato alle tantissime richieste che l'ospedale di Pescara ma in particolare il pronto soccorso ha da sempre chiaramente adesso stanno aumentando anche gli accessi perché se pensiamo che da Vasto a Giulianova è l'unico pronto soccorso attivo in quanto è stato chiuso quello di Ortona e ci rendiamo conto quindi che gli accessi sono tantissimi il problema vero è che le persone che arrivano al pronto soccorso anche quelle che insomma potrebbero avere diciamo una risposta adeguata da altre strutture da strutture di base da medici di base vanno tutti al pronto soccorso è chiaro che tutto questo deve essere risolto c'è questo grande impegno entro un anno quindi per la prossima estate dovrebbe essere ultimato il nuovo pronto soccorso e quindi la risposta ai cittadini e a tantissimi cittadini sicuramente sarà molto più adeguata è chiaro che la notizia 10 ore al pronto soccorso ad aspettare una visita è una cosa insomma che va assolutamente risolto c'è un grande impegno da parte dell'Asile di Pescara del direttore generale e dalla parte sicuramente della regione del Presidente che su questo fronte è molto attivo il Sindaco Alessandrini a volte dimentica che lui è il Presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci nonché è la massima autorità sanitaria locale e quindi dovrebbe fare di tutto a volte anche essere più dinamico urlare sbattere i pugni perché il nostro nostro comio il pronto soccorso dell'ospedale di Pescara non può creare disservizi se la regione ha voluto portare avanti una legge di riordino e questa legge di riordino crea solo disservizi il Sindaco di Pescara si deve far sentire e non può essere non può essere sottomesso dal Presidente della regione o dal direttore generale solo perché sono dello stesso partito La regione Abruzzo affidi ai vigili del fuoco il servizio di Eli Soccorso e la richiesta che arriva dal Conapo Germana Dorazio Anche il Sindacato Medici Italiani chiede di revocare l'affidamento del servizio dell'Eli Soccorso al privato per affidarlo al pubblico e così che torna all'attacco il Conapo il Sindacato dei Vigili del Fuoco che chiede che il servizio di Eli Soccorso abruzzese in convenzione con il privato a cifre che la collettività secondo il Sindacato non può permettersi venga affidato alla gestione dei Vigili del Fuoco da anni ricorda Luigi Conti il segretario del Conapo Abruzzo il Conapo sollecita inutilmente la Regione Abruzzo ad affidare l'Eli Soccorso ai Vigili del Fuoco che garantirebbero un'altissima efficienza a costi nettamente inferiori rispetto a quelli sostenuti oggi dalla Regione Abruzzo ma la classe politica accusa il Sindacato sembra sorda e con il suo immobilismo non fa altro che continuare a sperperare soldi pubblici per avere un servizio che potrebbe costargli meno della mità se finalmente decidessero di avvalersi di un corpo dello Stato qual è quello dei Vigili del Fuoco il cui pane quotidiano sono proprio la sicurezza e il soccorso pubblico Conti inoltre esprime forte preoccupazione per l'ipotesi paventata dal Sindacato dei Medici Italiani secondo cui pur di risparmiare il sistema sanitario abruzzese sarebbe pronto a tagliare le guardie mediche ma allo stesso tempo continuare ad affidare l'elisoccorso sanitario al privato a cifre fuori dal tempo e da ogni logica una volta tanto e l'appello del CONAPO si abbandonino le logiche che appartengono al passato e si dia ascolto a chi del soccorso pubblico ne esercita una professione come Vigili del Fuoco con dedizione capacità ed efficienza fuori a ogni discussione la posizione del CONAPO e del Sindacato Medici Italiani è dunque chiara l'elisoccorso sanitario abruzzese deve essere gestito dal pubblico attraverso i Vigili del Fuoco ed ora voltiamo pagina e andiamo a scoprire insieme l'edizione 2016 dello spoltore Ensemble 34esima edizione dello spoltore Ensemble 4 giorni di spettacoli che coinvolgeranno tutta la città con 100 artisti impegnati in performance tra musica teatro cabaret acrobazie videoproiezioni arte fotografica e visiva 4 le location che ospiteranno gli artisti Largo della Porta Largo della Chiesa Piazza Dal Benzio e Largo San Giovanni tra i big in programma ci sono Pino Insegno il 19 agosto e Giobbe Covatta che chiuderà domenica 21 sono molto molto emozionata ho avuto modo di vedere tutta la scaletta quindi ci saranno delle grandissime personalità e quindi questo mi rende molto più onorata si parla di cultura quindi io non posso che esserne felice e spero di no sicuramente darò il massimo per dare voce a questa grandissima manifestazione si parte alla grande il cartellone è veramente un cartellone di altissima qualità che vede coinvolta tutta la città il centro storico di Spoltore e veramente ci aspettiamo tantissime persone nella storia nella tradizione e nella cultura dello Spoltore Anzambri è quasi giunta la fine la quarta edizione di Attenti al Luppolo che conferma la grande presenza di visitatori circa 2000 a serata a Giulianova ieri sera è il penultimo atto un'edizione quella in corso che sta dedicando attenzione allo street food ai locali specializzati nella preparazione e vendita di cibi da mangiare in strada resta l'obiettivo di valorizzare e promuovere le specialità locali con il coinvolgimento di attività ristorative sono circa 16 quelle partecipanti presenti sul territorio e che sul territorio operano per l'intero anno spazio al Made in Abruzzo con i primi con i famosi arrosticini la porchetta e il pesce e quindi la protagonista della manifestazione cioè la birra artigianale tra i concerti di musica dal vivo quello finale della prossima settimana il 24 agosto con il duo bucolico presenti anche gli artisti di strada dei Baskers e il mercatino di alto artigianato ed ora apriamo la pagina dello sport con il calcio di Serie A in primo piano e la designazione arbitrale per quanto riguarda l'esordio in Serie A del Pescara contro il Napoli sarà Piero Giacomelli di Trieste il fischietto della prima di campionato l'arbitro 38enne una vecchia conoscenza del Delfino sin dai tempi della Serie C precedenti positivi con il Pescara su dieci partite dirette ben otto hanno fruttato tre punti al Delfino e le altre due sono state un pareggio e una sconfitta anche nell'ultima negativa esperienza in Serie A del Pescara Giacomelli è stato l'arbitro di una delle vittorie più clamorose di quella stagione anche l'ultima è le 2-0 al Franchi di Firenze contro la Fiorentina a qua di Uvarlo saranno gli assistenti Marco Barbirati di Ferrara e Giorgio Peretti di Verona addizionali di linea Gianluca Rocchi di Firenze e Riccardo Pinzani di Empoli quarto uomo Fabrizio Posado di Bari 8.300 gli abbonamenti venduti per la stagione 2016-2017 del Pescara ovviamente si attende il debutto nella massima serie e ovviamente c'è la corsa ai biglietti per la partita Pescara-Napoli vediamo Si parla della corsa all'ultimo biglietto in vista della gara con il Napoli inizia la serie A per il Pescara e allora come si è svolta tutta la campagna abbonamenti a che quota si è arrivati e quanti biglietti restano? La flusso è stata abbastanza costante per fare gli abbonamenti c'è stato un picco durante i primi giorni sia della vendita per la prelazione che per la vendita libera poi per il resto è stata abbastanza costante fino a domenica quando si è conclusa la campagna di abbonamenti Per quanto riguardano i biglietti della partita allora martedì è stata riservata la vendita per gli abbonati della Sud in quanto per la partita con il Napoli la Sud è riservata agli ospiti e poi ieri la vendita libera praticamente in mattinata sono andati via i settori della Nord e dei distinti e sono rimasti un 300 biglietti nella tribuna Maiella quindi oggi c'è poca gente perché lo sanno che sono finiti quasi i biglietti E adesso andiamo ad ascoltare due ragazzi due giovani che si stanno mettendo in mostra nella rosa del Pescara che affronterà la Serie A parliamo di Del Sole e Malocco È un'emozione immensa veramente sono commosso e spero di gioire con questa maglia Qualora giocassi e segni esulti? Ma penso di no perché sono di Napoli e mi sembra anche brutto contro la mia città possiamo definirlo un sogno perché è il sogno di qualsiasi bambino far parte di una rosa di Serie A io ci sono e cerco di viverla al meglio differenze tante sicuramente a livello fisico tecnico tutto un altro passo però mano a mano ti ambienti diciamo Sarà in buone condizioni il manto erboso dello stadio Adriatico Cornacchia di Pescara un manto erboso che aveva suscitato molte perplessità nella partita di Team Cup contro il Frosinone stadio praticamente pronto per l'esordio nel massimo campionato di calcio allora ascoltiamo l'assessore Diodati grande attesa per Pescara Napoli ci sarà il tutto esaurito allo stadio Adriatico assessore Diodati uno stadio Adriatico pronto che potrà accogliere nelle migliori dei modi questa grande sfida di campionato sì uno stadio Adriatico rimesso a lucido diciamo che insomma i lavori così come avevamo previsto si stanno concludendo tutti quanti nei tempi che avevamo inizialmente previsto abbiamo ancora qualche piccola cosa che dobbiamo fare però insomma si tratta di togliere il vetro di fronte alla tribuna VIP che verrà tolto però dopo la partita con il Napoli perché non faremo in tempo a farlo ora perché la ditta specializzata in questo momento qui è chiusa e quindi lo faremo per la prossima partita e poi insomma da sistemare queste ultime zone del campo che nella partita col Frosinone sembravano un po' rovinate in realtà e la rizzollatura del campo comporta insomma tutta una serie di situazioni particolari ma io ho fatto un sopralluogo ieri mattina allo stadio adriatico la situazione è molto migliorata io credo che per la partita con il Napoli anche il campo sarà in perfette condizioni e c'è un'altra notizia che riguarda lo stadio adriatico perché il Crotone giocherà il 28 di agosto contro il Genoa proprio allo stadio adriatico Cornacchia la decisione è stata presa perché Lezio Scida sarà pronto per il 18 di settembre in occasione della partita contro il Palermo valida per la quarta giornata di campionato la conferma è arrivata a seguito di un incontro nel tavolo tecnico istituito dal sindaco di Crotone Ugo Pugliese in accordo con la società di calcio calabrese che sta seguendo l'andamento dei lavori di adeguamento dello stadio ai parametri della massima serie dalla riunione è emerso che si sta rispettando il crono programma dei lavori e che non ci sono al momento criticità che porterebbero a far slittare la conclusione dei lavori e adesso scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo l'ultimo arrivato in casa del diavole come Zauli Ilari e Peterman un ex Sant'Arcangelo parliamo di Filippo Capitaneo nuovo difensore bianco-rosso un innesto che va a rinforzare il pacchetto arretrato del Teramo Jacopo Forcella con Filippo Capitaneo fanno quattro anche qualcosina di più gli ex Sant'Arcangelo considerato giocatori e staff tecnico del Teramo questa anima romagnola esportata in Abruzzo Zauli immagino ci abbia messo una parolina per portarti qui a terra penso proprio di sì dato che sono venuti anche qua Ilari anche Peterman ho accolto subito questa grossa opportunità che mi ha dato il presidente il direttore Lupo e anche il mister di certo sei venuto per rinforzare un reparto difensivo in cui ci sono già due colonne come Caidi e Speranza Capitaneo come si inserisce nelle gerarchie ovviamente ci sono loro due però io farò di tutto per mettere il mister nelle condizioni di poter far bene anche io poi qui ho visto già da ieri che ci sono giocatori molto validi quindi le soluzioni che darà il mister arriveranno anche meglio perché c'è gente molto molto forte quindi usciremo bene dai i movimenti difensivi che vi richiederà l'allenatore tu li conosci un po' a memoria si riparte dalla difesa a quattro sostanzialmente che è un po' il dogma di Lamberto Zauro sì sì assolutamente sì anche ieri e oggi mi sta trovato a quattro e penso che sarà questo il suo modulo ci spieghi un po' l'intermezzo di Olbia che ti ha riguardato sembrava che dovessi andare in Sardegna poi sei venuto a terra sì sembrava poi invece grazie a Dio ho scelto qui è stata una breve esperienza durata cinque giorni e niente dai ora sono qui penso a far bene qui un girone di ferro quello che è stato è stato definito si parte da Lumezzane ma gli obiettivi del Teramo considerando che ci sono anche squadre molto importanti come Venezia Parma e non solo quali sono? sì assolutamente sì playoff dai minimo la squadra che siamo penso che sia quello e dopo ci sono tantissime altre squadre forti nel nostro girone c'è il Padova Reggiana Fiala di Pissarò che anche l'anno scorso ha fatto un campionato ottimo però dai anche noi ci faremo bene e alla quinta c'è Sant'Arcangelo Teramo eh sì alla quinta sì che partita sarà? eh sarà una partita tosta dai perché anche loro anche quest'anno faranno una squadra buona salvezza auguro a loro di raggiungere come abbiamo raggiunto l'anno scorso però andremo noi a vincere speriamo dai all'alba appuntamento con la storia per l'ortonese Paolo Nicolai e il romano Daniele Lupo che questa questa notte anzi quella prossima mattina alle 4.59 in Italia alle 23.59 in Brasile giocheranno la finale dei giochi olimpici per quanto riguarda il beach volley maschile gli avieri scelti dell'aureonautica militare affronteranno nella beach volley arena di Coppa Gabbana i beniamini di casa e campioni del mondo Allison e Bruno quello della coppia italiana è stato un percorso difficile che però li ha portati comunque in finale che ha messo in evidenza la tempra sia mentale che fisica della coppia azzurra che questa notte sarà chiamata a disputare una prova maiuscola se vorrà avere ragione dei verde oro che ovviamente avranno dalla loro tutto il pubblico della volley arena di Coppa Cabana e dunque in bocca al lupo soprattutto al nostro Paolo Nicolai ma anche ovviamente a Daniele Lupo ed era questa l'ultima notizia del TG6 grazie per averci seguito buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti